L'Unato del Garda rappresenta il progetto turistico, si chiama Del Garda perché ha un pezzo di territorio sul lago di Garda e quindi giustamente ci si interessa anche del settore turistico. Roberto Tardani, sindaco di Lonato, dopo di tempo si parla di questo progetto turistico, ci siamo? Nel senso che noi già lavoriamo da anni nel cercare di rilanciare il turismo sul nostro territorio, ho visto le bellezze sia ambientali che culturali della nostra cittadina, però da quest'anno abbiamo fatto un progetto organico di sviluppo turistico con tutta una serie di iniziative di promozioni turistiche, una circa ogni mese, quindi saranno una decina di promozioni turistiche, di eventi che cominciano a partire da domani con Cittadella in Festival che vogliono valorizzare le bellezze del nostro territorio. Per portare i turisti, forse per portare i cittadini perché anche quelli dovevano conosci il territorio, cosa potete fare, cosa si farà in futuro, che non è solo il discorso di dire venite da Lonato, Lonato è bello, bisogna portare la gente. Già cominciamo con l'esempio di domani, domani ci sono due giornate Cittadella in Festival che ha un duplice motivo, innanzitutto portare turisti per tutti gli eventi che vengono organizzati, ci sono artigiani, ci sono giocolieri, c'è quindi uno sviluppo che coinvolge non solo la cittadella ma anche il centro. A noi interessa molto valorizzare anche e far vedere la nostra cittadella dove speriamo che vengono gli operatori commerciali ad investire. Noi abbiamo 12 case che sono in Cittadella che verranno occupate e verranno messe a disposizione di artigiani o di espositori. Noi speriamo che quella cittadella attraga degli investitori, degli investimenti per fare soprattutto bortecche artigianali, pittori, restauratori. Vorremmo fare la cittadella proprio un centro turistico di questo tipo che potrebbe sfruttare già i 40.000 visitatori della Fondazione Ugo da Como, quindi di fare diventare davvero il centro storico un qualcosa di attrattivo per i turisti. Ovviamente il turismo non significa solo il centro storico, l'ho nato a numerose frazioni, all'interno di quelle ci sono dei luoghi da visitare, Maguzzano, Drugolo, San Cipriano con la chiesa. Ci sono tanti eventi, San Zeno un po' fuori del centro. Ci sono organizzati magari dei tour, delle mezze giornate di visita guidata? Assolutamente, questo è il nostro programma e oltretutto ci sono due iniziative molto importanti in questo progetto di sviluppo turistico. Noi avremo la prima settimana di luglio i campionati europei di tiro al volo al Tra Concaverde e abbiamo organizzato, stiamo organizzando anche una gara di tipo triatrono sportiva che prevede la partenza dal lago dove viene fatto un percorso con la canoa, poi questi a piedi vengono in Rocca, dalla Rocca prendono la bicicletta, vanno in mountain bike, nelle colline, verso Brodena, vanno al Tra Concaverde a sparare, tornano in centro del coloniale. Cerchiamo di coinvolgere in questi percorsi anche ciclopedonali, cicloturistici, anche le nostre bellissime colline, le nostre frazioni. Grazie. 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 Grazie.